Vorremmo veramente che non accadessero più queste cose, però è vero non vogliamo che sia una frase così fatta perché tutti noi lo diciamo come se fosse una frase fatta, bisogna adoperarsi perché non succeda più. Era il 20 settembre 2018, Piero Bruni e Filippo Bagni persero la vita nell'archivio di stato di Arezzo uccisi dal gas Argon utilizzato nel sistema antincendio. Cinque anni dopo sono state organizzate cinque giornate di incontri proprio per riflettere su quanto accaduto affinché non succeda più. Era mattina presto, due impiegati udirono l'allarme antincendio e accorsero a verificare cosa stesse accadendo. Filippo Bagni fu il primo a scendere le scale che portavano al semi interrato dove si trovava l'impianto antincendio. Piero Bruni lo seguì poi, la morte si verificò una fuoriuscita anomala di gas Argon in colore, in odore, che va a sostituirsi all'ossigeno soffocando eventuali incendi. Ma proprio questa caratteristica fu letale per i due archivisti. All'inizio sei ubriacato dalla disgrazia e neanche ti rendi conto, poi ogni anno che passa hai più la consapevolezza che queste persone non ci sono più, non tornano, le vedi nelle cose di tutti i giorni che ti mancano e quindi il dolore non diminuisce. Filippo è una persona molto operativa, estremamente operativa, quindi se è accaduto quello che è accaduto è proprio perché lui si è impegnato in un qualcosa per il quale però verosimilmente non era stato forse correttamente informato. A cinque anni di distanza sono state pensate cinque giornate di iniziative nei musei statali aretini e per l'archivio di Stato di Arezzo potrebbe profilarsi una soluzione diversa per difendere i preziosi documenti. Noi qui non faremo un deposito a gas, faremo un deposito ad acqua nebulizzata. Io ho dedicato una vita alla conservazione della documentazione, alla gestione della documentazione archivistica. È la mia passione fin da quando ero molto giovane, ciò nonostante penso che la vita umana venga prima.